Allora entriamo nei dettagli. Diversi arresti e soprattutto tanta droga sequestrata. Sì, l'operazione che oggi è stata conclusa dalla Polizia di Stato, grazie all'importante collaborazione, soprattutto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Taranto, ha condotto all'emissione e all'esecuzione di 22 misure cautelari. Nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo di detenzione, cessione di sostanze stupefacenti, di diversa tipologia, quindi andiamo dalla cocaina all'eroina, all'ecstasy, alla marioana e all'hashish, in diverse piazze di spaccio. Quindi abbiamo diversi gruppi organizzati, specializzati, in diversi quartieri, nell'accessione al dettaglio di queste sostanze stupefacenti. E naturalmente poi siamo riusciti a individuare anche alcuni dei loro canali di rifornimento di queste sostanze, procedendo anche in corso d'opera a sequestri e ad arresti importanti. Attenzione sempre alta da parte della Questura verso lo spaccio di sostanze stupefacenti. I risultati vi stanno dando soddisfazione? Sì, ci stanno dando molta soddisfazione, anche perché queste sono attività dalla quale emerge uno spaccato molto preoccupante, circa la pervasività del consumo di droga a tutti i livelli nella società. Non da ultimo uno dei luoghi che alcuni di questi indagati preferivano per spacciare, come luogo di spaccio maggiore, era una discoteca, una nota discoteca di Taranto, frequentata moltissimo dai giovani, soprattutto dai giovanissimi, e in relazione ai quali tra l'altro discoteca che qualche giorno fa è stata chiusa per altre motivazioni. Io non posso che fare i complimenti alle donne e agli uomini della squadra mobile per questa importante operazione, ma chiaramente l'operazione è il frutto di un lavoro di squadra, come diciamo spesso, quindi la Procura della Repubblica e la stessa autorità giudiziaria, quindi anche il GIP, perché per giungere a simile operazioni ci deve essere una sinergia completa, è quella che oggi ha portato poi a queste 22 misure. 22 misure che hanno riguardato più quartieri, come giustamente è stato segnalato, della città, questa è un'attenzione che è costante da parte della squadra mobile al fenomeno della droga, quotidianamente avvengono sequestri, arresti o denunce, quindi questa è un'ulteriore tassella in quella che è l'attività di portare a regolarizzazione questa città, così come dicevo prima, anche con riferimento a quelle che sono stati i fallori di San Giuseppe. La droga è di tutti i tipi, anche sostanze di sintesi, sostanze create in laboratorio, alcune di queste sostanze venivano anche spacciate all'interno di un locale pubblico, uno di questi locali che tra l'altro proprio recentemente è stato oggetto di un sequestro, quindi a conferma dell'attualità, così come a conferma dell'attualità sono stati sequestri questa mattina a carico di uno dei soggetti colpiti dalla misura.